Musica Buonasera, benvenuti al consolato appuntamento con l'informazione di Televomero. Un morto e cinque feriti è il bilancio dell'incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla autostrada 2 nel tratto salernitano tra gli svincoli direzione nord di Padula, Buonabitacolo e Sala Consilina. A causare l'incidente una vettura Fiat Punto è entrata in autostrada contromano allo svincolo di Atena Lucana che si è scontata frontalmente con un'altra auto, un Audi A4, i cui occupanti sono rimasti tutti feriti e trasportati presso il vicino ospedale di Polla. Perdere la vita un uomo 80 anni originario di Scafati che era la guida dell'auto che viaggiava contromano, notevoli disagi per la circolazione. Arresto per l'omicidio Perna ucciso nel 2016 Aveva decretato la morte di Giuseppe Perna il 5 marzo del 2016, morto all'interno di un pub del quartiere napoletano di Pianura perché la vittima si era reso responsabile di furti nelle casse del clan. Vincenzo Foglia, classe 53, reggente in assenza dei capi detenuti del clan Marfella Pesce, radicato e operante nel quartiere urbano di Pianura, è stato arrestato questa mattina dalla squadra mobile della Questura di Napoli in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Il provvedimento cautelare è stato emesso dopo un'intensa attività di indagine che ha permesso di individuare il ruolo di mandante ricoperto da Vincenzo Foglia anche attraverso le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Raffaele Dell'Oiacolo, esecutore materiale dell'omicidio, che esplose numerosi colpi d'arma da fuoco contro Giuseppe Perna, quattro dei quali lo colpirono alla testa, al collo e al dorso. Un festoso flash mob ha visto protagonisti stamane in piazza del plebiscito 1500 ragazzi che hanno partecipato al progetto alternanza scuola lavoro diretti da Carlo Morelli e Filomena Piccolo. Era dedicato a George Gershwin, il flash mob che ha visto protagonisti questa mattina in piazza del plebiscito, 150 ragazzi che hanno partecipato al progetto alternanza scuola lavoro del teatro San Carlo di Napoli. Diretti da Carlo Morelli e Filomena Piccolo, gli studenti del progetto Gershwin Tribute si sono dedicati per quattro mesi da novembre 2018 a marzo 2019 allo studio e all'interpretazione dell'opera del compositore, spaziando tra musical, musica sinfonica ritmica e influenze jazz, partecipando a momenti formativi sul canto, la danza e i linguaggi del teatro, in un'officina artigianale di avvicinamento alle arti sceniche. Questa mattina presenti anche il sindaco Luigi De Magistris, la conclusione di questo percorso didattico che prevede anche un concerto al teatro San Carlo che vedrà l'esibizione di gran parte degli studenti coinvolti con brani musicali del celebre compositore americano, in uno spettacolo aperto ai giovani e alle loro famiglie. Sull'apposizionamento delle griglie di ventilazione della linea 6 della metropolitana di Napoli c'è un accordo che è stato raggiunto con il comune di Napoli, e lo ha annunciato il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli, a margine del congresso mondiale delle calzature a Napoli, le griglie di ventilazione dovevano essere posizionate in piazza del plebiscito, ma il ministero si era opposto. La questione è finita per due volte davanti al TAR che ha dato ragione al comune di Napoli, poi sono iniziate delle riunioni tecniche tra amministrazione napoletana e ministero per trovare una soluzione alternativa. Una schiarita nella vicenda delle griglie dei lavori della linea 6 in piazza del plebiscito. Non si conoscono ancora i termini, ma un accordo è stato raggiunto tra comune di Napoli e il ministero dei beni culturali. Ad annunciarlo il ministro Alberto Bonisoli, intervenuto questa mattina al teatrino di corte di Palazzo Reale, per il congresso mondiale delle imprese calzaturiere. C'è un accordo che abbiamo raggiunto con il comune dove finalmente, con un po' di buon senso, di determinazione e di tenacia, si può tranquillamente risolvere quella che può essere un'apparente contraddizione tra quello che è il rispetto e la tutela di un bene come quella di piazza del plebiscito che è un valore assoluto e quello che è una assolutamente necessaria e vitale esigenza della città che è quello di muoversi in modo sostenibile. Quindi sono contento che stiamo andando nella giusta direzione. L'inter dei lavori della linea 6 della metropolitana ha subito una nuova accelerazione da quando ad Altar c'era stato circa un mese fa l'annullamento del decreto del ministero di Bonisoli che cancellava l'autorizzazione del suo intendente Luciano Garella a realizzare le griglie. I soldi ci sono e vanno spesi bene, così il ministro Sergio Costa, rivolgendosi al commissario per la bonifica ambientale di Bagnoli, Francesco Floro Flores. Ieri sera ha detto Costa, parlando agli studenti della facoltà di ingegneria dell'Ateneo Federico II. Abbiamo filmato con il ministro Lezzi e il comitato interministeriale per la programmazione economica lo stanziamento di 320 milioni per Bagnoli. Adesso i soldi ci sono, bisogna utilizzarli al meglio. La musica di Capone e Bung de Bang, degli strumenti interamente realizzati con materiali riciclati. A suonare il ministro dell'ambiente Sergio Costa all'Università Federico II di Napoli questa mattina per incontrare studenti universitari e delle scuole medie superiori per un confronto su temi come i cambiamenti climatici, gli accordi tra i paesi per una politica ambientale comune, lo sviluppo sostenibile e le ricchezze del nostro territorio per un modello condiviso di crescita. All'iniziativa Il Capitale Naturale, la nostra risorsa comune, organizzata dal Ministero, dall'Università Federico II di Napoli e dal Programma di Educazione Ambientale della Banca Mondiale, il ministro è stato intervistato dal giornalista Paolo Chiarello. Costa ha annunciato di aver dato il via libera al disegno di legge Salva Mare. Io faccio un appello a tutti i parlamentari perché il mare non ha colori, non ha appartenenze, non ha maggioranza, non ha opposizione. Il mare è di tutti, non solo dell'Italia, è del mondo e quindi chiaramente fate presto. Ospite nel nostro telegiornale, Andrea Camera, ematologo ma soprattutto vicepresidente dell'Associazione Italiana contro le eucimie e mieloma, Lail, che promuove e sostiene la ricerca. Buonasera, grazie per essere qui nel nostro telegiornale. Voi portate avanti da ben 26 anni l'iniziativa delle uova di Pasqua, le uova della speranza. Quindi in 4.800 piazze italiane ci sarà la vendita delle uova naturalmente anche a Napoli. E così appunto anche a Napoli, provincia, oltre 80 stand. A Napoli in particolare saremo a Via Scarlatti, a Piazza Medaglia d'Oro, a Largolara, a Fuorigrotta, a Piazza dei Martiri. Con un contributo minimo di 12 euro è possibile prendere un uovo di Pasqua di ottima qualità o al latte o fondente. Come è possibile poi riuscire a realizzare questa iniziativa che richiede veramente l'impegno di tante persone? È un'iniziativa che portiamo avanti ormai da sempre, da quando esistono le sessioni provinciali dell'AIL, perché è un'iniziativa dell'AIL nazionale e con il contributo insostituibile dei nostri volontari, ovviamente senza i quali non sarebbe possibile portare avanti questa iniziativa, ma anche molte altre iniziative che abbiamo a Napoli, come per esempio i punti di accoglienza e di assistenza che abbiamo nei De Hospital dell'ospedale Cardarelli, nell'ematologia dell'ospedale Cardarelli e nell'ematologia del Policlinico Federico II, un gruppo di volontari ai quali noi dobbiamo praticamente tutta la nostra gratitudine e ringraziamento. Bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie del sangue, lei è un ematologo, è importante, è importante anche la prevenzione, quindi bisogna in qualche modo comunicare e informare la cittadinanza. Purtroppo diversamente dalle neoplasie oncologiche solide non ci sono possibili prevenzioni specifiche. Quello che solitamente consigliamo è un check up di laboratorio e una visita clinica dedicata almeno praticamente una o due volte l'anno. Oggi le malattie ematologiche hanno una prognosi molto migliorata rispetto al passato grazie a nuove strategie terapeutiche, grazie ai nuovi farmaci che sono farmaci particolarmente specifici, farmaci target che sono in grado di colpire meccanismi biologici delle cellule malate risparmiando quasi sempre le cellule sane. Questo è stato un passaggio praticamente di frontiera importante ormai in atto da oltre dieci anni, così che se non siamo riusciti proprio a sconfiggere tutte le malattie riusciamo a dare una cura con una qualità di vita buona alla maggior parte dei pazienti. Alle nostre spalle vediamo due splendide uova di Pasqua che saranno vendute, lo ricordiamo, il 5, il 6 e il 7 aprile nelle piazze italiane, lo ricordiamo anche a Napoli. Qual è l'obiettivo, qual è la centralità dell'AIL? La centralità dell'AIL come sempre ogni anno è l'assistenza domiciliare gratuita ematologica per i pazienti che non sono in grado più di raggiungere praticamente i centri che li curano, sono i punti di accoglienza come vi ho già detto, sono il sostegno di progetti di ricerca e di progetti di assistenza che vengono ogni anno sottoposti al vaglio del consiglio tecnico scientifico dell'associazione per cui noi ogni anno eleggiamo in relazione appunto alla qualità dei progetti e alla quantità dei progetti, eleggiamo uno, due, tre progetti che vengono praticamente sonvenzionati con delle borse di studio, con dell'acquisto di materiali o di attrezzature. Prima di salutarci le chiedo, c'è trasparenza anche nella gestione poi di questa raccolta fondi? Perché molto spesso ci si nasconde dietro non faccio solidarietà, non faccio beneficenza perché poi non so dove vanno a finire i soldi che ho dato in maniera generosa. C'è trasparenza perché sul sito dell'AIL abbiamo tutte le nostre iniziative e ci sarà anche praticamente il bilancio dell'associazione, quindi c'è una totale trasparenza che è possibile verificare o in sede presso la nostra segreteria o sul sito dell'associazione. Noi ringraziamo il dottor Andrea Camera e invitiamo tutti voi a comprare in piazza queste uova per donare una speranza a chi è stato meno fortunato. Grazie, in bocca al lupo per la vendita delle uova, noi proseguiamo con il nostro telegiornale e vediamo un servizio. Romanzo in bianco e nero, edito da Vagliano e l'ultimo libro di Delia Morea, una storia di amore e di amicizia, scritto con eleganza e raffinatezza come solo una penna sensibile e attenta può fare. Presentato in una sala grimita della libreria Raffaello Alvomero, Delia Morea, scrittrice, giornalista, bianco e nero di questo romanzo sono contrasto ma anche bianco e nero quello del cinema con cui la scrittrice si interfaccia. 37 anni l'arco temporale in cui si snodano le pagine ricche di emozioni. Il libro non a caso è dedicato a Vittorio De Sica, così si racconta l'autrice. È un romanzo che parla di cinema però parla anche della vita, si svolge in due epoche storiche, gli anni 40, gli anni della guerra, delle leggi razziali e gli anni 70. Un romanzo che è scritto come una sceneggiatura cinematografica parallela, nel senso che le due epoche si vanno di pari passo, si confrontano nei vari capitoli. Un capitolo è dedicato appunto agli anni delle leggi razziali e un altro agli anni 70. Per cui la storia si sconfluisce poi alla fine in un unico cerchio. Concorso Pizza Metro ha animato la manifestazione che si è tenuta a Vico e Quanza. Sarà un concorso dedicato alla Pizza Metro ad animare Pizza a Vico nelle mattine dell'8 e del 9 aprile. Un trofeo dedicato a Luigi Della Mura, noto come Gigino Pizza a Metro, fondatore dello storico locale diretto da Giovanni Rivieccio. È un premio quasi dovuto a una persona che ha inventato un blend che ancora oggi è rinomato in tutto il mondo, si può dire. Io sono molto onorato di partecipare a questa manifestazione in veste di rappresentante della famiglia Della Mura. Il contest è promosso dall'Associazione Pizzaioli Napoletani, presieduta da Sergio Micù. Si saranno naturalmente due categorie, la classica Pizza a Metro e la Pizza Fantasia, sempre a Metro. I pizzaioli di Vico parteciperanno un po' tutti e avremo anche delle partecipazioni sia dall'estero che dall'Italia. La gara, che sarà presentata dalla voce della pizza napoletana Enzo Calabrese, si avvarrà dal punto di vista tecnico del maestro Raimondo V e di Antimo Caputo. I vincitori dell'edizione di quest'anno di Vico saranno presenti al campionato mondiale del pizzolo che io presento sul lungomare Caracciolo, 17, 18 e 19 settembre. È una tecnica che richiede una farina soffice ma molto estensibile affinché possa allungarsi fino ad un metro, per esempio. Quindi è una farina di bacotto in un fondo a legno a temperatura bassa, intorno ai 300 gradi, quindi parliamo di una tecnica completamente diversa e quindi degli ingredienti, quindi dei condimenti estremamente buoni. Nasce con la semplicità della panificazione, con la bontà dei pomodori della zona e con la bontà del fior di latte. Il sindaco di Vico e Quenze, Andrea Buonocore, soddisfatto, ha commentato. La pizza di Vico è accoglienza, è condivisione, è una pizza che si condivide e in tre giorni rappresenta la sintesi della solennità di quello che avviene nella quotidianità, 365 giorni all'anno. Per i bambini autistici è una giornata assolutamente insolita, diversa. Hanno visitato infatti all'aeroporto di Capodichino, un aereo dell'Easyjet. Una giornata emozionante per undici tra bambini e ragazzi, che accompagnati dai loro genitori hanno visitato per la prima volta l'aeroporto di Napoli, accolti come passeggeri VIP dello scalo partenopeo. In occasione della settimana dell'autismo, GESAC, in collaborazione con l'ASL Napoli 1 ed ENAC, ha organizzato l'evento che si è concluso con la visita straordinaria di un vero e proprio aereo messo a disposizione della compagnia aerea Easyjet. Gennaro Bronzone, direttore di ENAC e Flavia Scandone, responsabile assistenza alla clientela di GESAC. Noi abbiamo una procedura che consente alle famiglie, su richiesta, di venire qualche giorno prima in aeroporto e familiarizzare con le luci, con i rumori dell'aeroporto, in maniera tale che i ragazzi, quando vengono nel nostro ambiente, non si trovano in disagio. C'è anche la possibilità di attraversare tutto quanto l'aeroporto, per cui conoscere in maniera anticipata i vari locali dell'aeroporto. Il giorno della partenza abbiamo uno splendido team delle assistenze speciali che farà evitare qualunque tipo di fila e attesa. Check-in, controlli di sicurezza, imbarco, c'è un'assistenza dedicata. Quindi noi ci auguriamo che grazie a questo progetto le famiglie superino la paura di intraprendere un viaggio aereo. Noi siamo a disposizione. Insieme al personale operativo i ragazzi hanno vissuto l'esperienza a bordo da veri passeggeri in partenza e grazie anche al comandante sono stati ospitati nella cabina di pilotaggio. Claudia Milone, una mamma accompagnatrice. È il simbolo di un mondo che si apre, di un mondo peraltro abbastanza complesso, qual è quello del sistema aeroportuale che ha delle regole rigide che mettono in difficoltà normalmente le persone normali. Immaginare che ci siano delle deroghe a queste regole per accogliere non soltanto i bambini ma le famiglie con disabilità ha un valore simbolico soprattutto per la generazione che è quella attuale che ha fatto praticamente della inclusione una ragione di vita. Bene, davvero tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo come di consueto alle prossime edizioni. Intanto una piacevole serata. Arrivederci.